Nemmeno il tempo di annunciare il progetto che il piano di riqualificazione ciclopedonale di via Marini divide già il quartiere. Dopo le polemiche sul marciapiedone ciclopedonale di via Pistoiese, con tanto di doppia petizione presentata in comune, ora fare discutere l'idea dell'amministrazione comunale di creare un percorso ciclopedonale dall'incrocio con i binari della ferrovia fino all'intersezione con via Pistoiese. Secondo il comune, da un lato si inciderà positivamente sulla mobilità pedonale e dall'altro si andranno a inserire nuove alberi al macrolotto zero. Il marciapiede sarà largo 4 metri, mentre la carreggiata si restringerà con un'ampiezza variabile dai 5,5 metri ai 3,5 metri. Inoltre aumenteranno gli attraversamenti pedonali che passeranno da 3 a 7. C'è la nuova pista ciclabile su via Marini, le che ne pensi? Per i ciclisti è ottima, però penso che per le macchine saranno un po' in difficoltà. Lei va sempre in bicicletta? È aiutata da questi nuovi marciapiedoni ciclabili? No, sono troppo larghi, troppo grandi. A noi ciclisti basterebbe di meno anche come ciclabile. Sono evidentemente troppo larghi. Lei da automobilista che ne pensa ai nuovi marciapiedoni? No, sarei contraria, perché già quello su via Strozzi ci ha levato tanti posti auto. Noi che si lavora, cioè non si sa dove mette la macchina. E poi a me piacebbe sapere chi ci va in bicicletta. Chi ci va in bicicletta? Cioè passerà tre persone al giorno in bicicletta. All'incrocio con via Pistoiese, inoltre il marciapiedone verrà realizzato in modo tale da impedire alle automobili di proseguire diritto verso via Nino Rota. Azione oggi vietata dal codice della strada, ma comunque largamente diffusa fra gli automobilisti. Non fare, per favore. Ti prego, per favore, non devi fare. Che già ha fatto via Strozzi, tutti i minuti c'è fila. Tutti i minuti c'è fila. Prima, ogni tanto qualcuno fermava. Ora c'è autobus, ambulanza, non si passa più brutto. Strada è questo, non c'è esiste. Non devi fare, per favore. Non dopo chiude strada tutto. Per favore, non devi stringere strada ancora. Qualcuno fermava la macchina. Ora non ferma nessuno perché già tu, 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 vigili, polizia, tanti casino. Non posso non fare, per favore, questo.